buonasera amici di incontri ben ritrovati un'altra puntata un altro personaggio e questa volta parliamo di musica parliamo di femminilità parliamo anche di bellezza perché parliamo con clara moloni grazie mille clara grazie cantante e soprattutto adesso noi parleremo poi durante la trasmissione la vocalist di vasco rossi però so che non ti disturba questa cosa e ciò dimostra anche per me tu perché lo sei esatto e poi non ti sminuisce ho sentito anche altre interviste però a me interessa la clara a noi interessa la clara moroni quello che esprime proprio lei di persona allora diciamo come si è nata il 3 novembre scorpione scendente scorpione addirittura io scendente a riete è buono io sono esperto di scendere scorpione a riete sono sono i complementari sono un uomo completo sono un uomo completo perfetto vedi già mi hai dato tu un'informazione non diciamo l'anno perché non è corretto non hai sbagliato sono una vecchia ragazza sei sempre una ragazza ma come nasce clara moroni in che famiglia nasce com'è la tua famiglia una famiglia di un'origine una famiglia borghese com'era allora mio padre è innanzitutto è nato a rieca a fiume a fiume a fiume si quando ancora era jugoslavia e infatti è uno scampato dalle foibe perché mio nonno era capo stazione della stazione di fiume e cominciavano ad arrivare le voci di queste foibe del fatto che i titini scendevano praticamente dalla jugoslavia e buttavano gli italiani e molti non credevano a questa cosa e invece mio nonno che era di origini riminesi allora ha detto ma secondo me invece essendo poi lui non era fascista però per lavorare ovviamente c'era bisogno della tessera quindi comunque ricoprendo un ruolo diciamo statale che sarebbe stato uno delle vittime un bersaglio e quindi ha preso la famiglia ed è sfollato tuo nonno come si chiamava tuo nonno mio nonno si chiamava gino gino come mio papà è diventato quasi comuni perciò si chiamava gino è partito e perciò ha detto guarda andiamo e dove sono andati sono tornati a samignano sul rubicone tant'è vero che mio padre quando era piccolino giocava con i nipoti di pascoli contro lino guerra poi si racconti una bellissima storia insomma perciò la poesia c'era già lì ha fatto e cosa ti racconta cosa ti ha raccontato tuo padre cosa ti raccontava a parte questi giochi questi questo mondo di povertà oppure un mondo ma mi raccontava che a un certo punto si erano trovati cioè mi raccontava la guerra ecco mi raccontava che non so del tipo che si mettevano al centro con intorno le mucche e quindi perché quando sparavano a nord i tedeschi a sud gli americani eccetera 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 poi la romagna si trova nel mezzo del fronte proprio nella linea insomma e quindi loro si mettevano praticamente mettevano le mucche intorno a loro si metteranno lì ogni tanto qualche mucca cadeva perché veniva colpita però salvava loro mi raccontava dei giochi non so del tipo che avevano trovato sul fiume un elmetto nazista e poi aveva tirato solo e ha trovato questo teschio davvero perciò c'era anni terribili no io a me piace molto anche la letteratura perché sa raccontare sa spiegare cose che magari la cronaca di allora non faceva e perciò il terrore l'orrore della guerra sì infatti questa è una diciamo una lezione che hanno imparato i nostri padri noi siamo fortunati so che a volte noi non siamo mai contenti io per prima non sono mai contento perciò si stava meglio quando si stava peggio non è vero a volte comunque c'erano magari altre cose però no infatti sono molto preoccupata anche per la situazione di questa Europa che secondo me cioè come sono molto personata di storia ha delle connotazioni un po' un po' anteguerra si deve portare alla guerra questa frammentazione questa divisione non ciò non si cerca più ciò che unisce ma si cerca ciò che divide questo non può essere un pericolo anche interessante questo invece come poi ha conosciuto invece tua mamma dove l'ha conosciuta era di romagnolo oppure dove era no mia madre invece proprio dirigine lombarda si chiamava Ripamonti e mi sono conosciuti a Milano perché mio padre teneva dei corsi d'inglese lui lavorava alla Solvete chimica certo dove c'era la famosa bicarbonato esatto c'è la fabbrica anche a Solvete Rosignano Solvete forse sì Rosignano sì ma c'è anche tra le altre parti non mi ricordo più dove e niente quindi lui aveva fatto gli studi a Milano e poi dopo faceva questi questi corsi d'inglese serali e si sono conosciuti lì e basta insomma poi sono molto fuori io dove abitavano dove sei nata tu? Allora io sono nata alla clinica San Giuseppe via San Vittore proprio davanti al carcere e poi i primi anni li ho vissuti a Cittastudi esattamente una traversa di via Pacini poi mi sono spostata a Sesto perché i miei nonni erano di Sesto quindi me la contava anche mia nonna la guerra perché poi lì a Sesto perché c'era comunque le fabbriche le accellerie perciò le bombardate assolutamente uno dei posti più martoriati d'Italia esatto perciò anche lì hai avuto ecco perché ti sei appassionata di storia sei cresciuto in una famiglia ma non so io credo anche molto nella reincarnazione perché essendo buddista e quindi ti dico che non so c'è qualcosa che mi lega a tutte queste cose sì sì sono molto appassionata guardo sempre la grande storia con Paolo Mieli guardo sempre Rai Storia mi piace tantissimo è una passione sana comunque questa perciò come i primi amici molto noiosa però è vero magari dovrai vederli da sola infatti li vedo sempre da sola e la Milano allora visto che si passano di storia la Milano della tua infanzia adesso è cambiata moltissimo ci sono questi quartieri nuovi una rinascita anche vera per Milano non so se sei d'accordo oppure no però è vero che è una città che si sta competendo sta avendo competizione con Londra, Berlino insomma magari più ancora di Roma perché c'era qualche difficoltà in più ma la tua Milano invece la Milano di quando eri ragazza che Milano era? ma io ti parlo del tardi anni Ottanta era una Milano stupenda una Milano piena di movimenti musicali c'era la New Wave io andavo in centri tipo il Virus il Vidicon il Poire dove non so il Plastic dove faceva il DJ Ringo e dove venivano i Crisma, Ivan Cattaneo i Ligheira cioè io ero molto piccola era sempre... cioè sono passata ad essere la pistolina e così ad essere quella più vecchia vabbè insomma... hai saltato la fase di mezzo esatto cioè prima sei sempre più piccola poi a un certo punto e quindi niente insomma poi io ero punk e quindi... ero punk anche proprio... sì sì ma che cosa che avevi? avevi... eh avevo... allora quando sono tornata da Londra mia madre non mi ha voluto salutare per un... cioè in strada non mi... perché avevo i capelli fucsia lo diciamo così anche le mamme di adesso con i ragazzi di... adesso è tutto normale adesso è normale a confronto capelli fucsia non ti ha salutato? no beh nel senso che quando andavo in giro era... un po' imbarazzata era un po' imbarazzata però pierce in queste cose no quella cosa lì no non era una cosa del punk di allora neanche il tatuaggio è venuto fuori dopo dopo? sì sì erano i capelli erano i capelli e i vestiti ma secondo me non c'era poi nessuno punk infatti io mi ricordo ai tempi che eravamo tipo in via Torino e venivano i giornalisti ci davano 5 mila lire per farci le foto per intervistarci perché tipo c'erano a Milano 100 punk e quindi ne eravamo sempre lì eravate presi comunque come modello erano gli anni dei movimenti perciò c'erano i paninari no beh infatti via Torino è stato proprio un luogo di scontro c'era il punk poi c'era il piazza mercato dove c'erano i skinheads poi c'era l'economia di se Lorenzo dove c'erano gli heavy metal poi c'erano i mods cioè ci si sono stati di scontri cioè era comunque tutto cancello un po' più omologato adesso adesso è totalmente omologato non ricordavo però appunto io sono anch'io di quel periodo perciò ero forse un po' più vecchio allora perciò non ho fatto tempo a viverlo però è un po' più omologato i ragazzi non sono più così distinti no ma anche perché adesso non ci sono più neanche motivi è tutto molto più frammentato non c'è più cioè non ci sono più dei gruppi di appartenenza ecco perché io Clara mi domando questo e chiedo a casa incuriosisca anche per le generazioni che non hanno fatto tempo a viverle ma al di là dei vestiti e dei capelli e delle mode però cosa era l'ideologia punk cioè c'era qualcosa dietro pura semplicemente fare gruppo perciò si andava d'accordo con quel tipo di persone beh no essere punk voleva dire spaccare il mondo rompere la società rompere gli schemi essere contro essere contro essere anarchy in the UK che è quindi l'anarchy in Italy e quindi anche il fatto di fare musica per me diciamo l'imprinting che ho avuto è stato quello che la musica ha comunque un ruolo sociale non è solamente intrattenimento infatti quando una delle prime cose che volevo fare quando ero punk era fare il gruppo solo che abitava a Sesto e avevo uno che suonava la chitarra al Sesto piano ma faceva proprio battisti e quindi è stato un po' un disastro però poi alla fine ho trovato e abbiamo cominciato tra l'altro ho anche suonato come supporter all'Odissea 2001 di tantissimi gruppi inglesi famosi ai tempi insomma certo che poi adesso abbiamo tutta questa connessione perciò si è arrivato di tutto invece allora c'erano proprio quando arrivavano comunque quasi dei miti che arrivavano perciò li conoscevi li vedevi da vicino ti entusiasmani no ma noi non avevamo neanche i vestiti quindi c'erano anche perché eravamo piccolini quindi c'era quello che partiva per Londra e noi gli avevamo i soldi così lui andava a comprare da Boy in King's Road i vestiti e poi ce li portava tipo il giocotto di pelle i pantaloni scozzesi con i bondage le magliette strappate cioè non c'erano ancora dopo piano piano via Torino sono diventate un luogo dove c'erano questi negozi diciamo che l'avanguardia è diventata comunque siete rimasti pochi però poi sono andati anche gli altri sì poi dopo c'è stata l'evoluzione appunto dal punk alla new wave quindi una fase più elettronica Depeche Mode seconda maniera i Cure via Tears for Fears e Eurythmics è un po' più commerciale però poi lì comincia però la fase commerciale dove diventa anche un po' intrattenimento ma infatti io avevo visto i Cure non mi ricordo più se li avevo visti a Rolling Stones o all'Odissea 2001 comunque eravamo tipo in 100 poi quando hanno fatto il Palatussardi per me erano già commercialisti commercialisti basta 3 erano pochi ma 100 erano troppi quindi insomma proprio contro qualsiasi e allora invece tu perciò cominci non sei riuscita a fare un gruppo a sesto e dove vai dopo? a Milano a Milano sono andata in Costa Magenta dove si trovavano a Bama Magenta anche tu la passione della musica l'avevi ma chi te l'ha insegnata? era una cosa tua? no l'ho sempre avuta anche da piccola mio padre di notte gli faceva diciamo le sortite perché io avevo il cuscino avevo la radio con l'auricolare e passavo tutta la notte a ascoltare le prime radio libere cioè radio teleporter radio Peter Flowers io avevo Teo Mangione da noi che è proprio uno dei quelli che iniziavano quello che c'era insomma quello che c'era allora non è che a volte la famiglia poi ti aiuta? perché la tua famiglia non avevo particolari mia madre cantava bene per cui penso che ha preso da lei può essere che l'abbia preso da lei da Riffamonti vedi qualcosa poi invece pensavo che la Romagna portasse la famiglia artistica invece anche la vera milanese la vera lombarda no poi i rimini io ho sempre vissuto solamente d'estate andavamo a trovare i parenti i riminesi d'estate quindi le piedine ma non sono però sono molto legata a quella terra sì la Romagna mi piace ho ancora parenti e giurini diciamo che è un posto davvero dove forse riescono a conciliare diciamo l'efficienza del nord Italia anche se sì sì e con però anche un aspetto più godereccio perciò si godono un po' più la vita io poi stavo a Sant'Arcangelo a Sant'Arcangelo che è già dire che è ancora più bello è ancora più bello perché è meno turistico però è ancora più la Romagna quella vera mi ricordo quando eravamo piccoli facevano il teatro in piazza è un festival che fanno tutti gli anni e noi ci arrampicavamo sulle sulle inferiate sulle impalcature certo le transenne sulle impalcature per vedere sì da dieci facciamo delle cose che oggi sarebbe impossibile con la sicurezza mi ricordo è cambiato tutto è cambiato anche nella musica cambiano anche nella sicurezza la 6, 2, 6, le le leggi varie ma perciò ascoltavi in musica il primo proprio il primo ricordo che hai di un cantante di una canzone io ricordo esempio Islael che la canta pensavo a te come sono vecchio tu invece avrai una canzone ma allora non lo so ti posso dire che la prima volta che ho sentito i Sex Pistols mi è esploso il cervello dice qualcosa Dendo perché c'è un tipo di musica molto particolare però è quello che ti ha affascinato sì quello mi ha proprio ha detto io voglio fare quella cosa voglio voglio far parte di questa cosa e quindi siccome non c'erano appunto i punk io lo sapevo perché leggevo loro si trovavano a Bambagenta io sono arrivata vestita come una sfigata e sono andata da loro e ho detto voglio voglio essere punk come voi no no mi hanno guardato e ho detto va bene sì le infatti non è che avevano queste diciamo manifestazioni proprio no mi hanno guardato proprio dall'alto in basso e mi dice ma chi è sta sfigata però ho detto va bene poi da lì ho cominciato a sottare i capelli ho cominciato a far preoccupare i tuoi genitori sì no mia madre era disperata mio padre ha detto vabbè insomma è la sua età i suoi padri sono un po' più tendono sempre a fare andare i figli nel mondo perciò cercano un po' di mediare insomma perciò poi invece diciamo non professionalmente però la prima band qual è stata? i Kubrick Kubrick perché eravamo tutti fan dei Kubrick e quindi eri tu però l'anima oppure tu eri cantante ma c'era qualcuno un fondatore un trascinatore era il batterista Tony Marrone il cui fratello poi è stato il primo bassista del Casino Royale Brown però diciamo che poi le canzoni i testi le cose le scrivevo io poi andavano dietro però insomma quello che teneva insieme il gruppo era Tony fa piacere quando parlo con te Clara perché credo che anche a casa gli appassionati di musica perché poi fai tutti questi riferimenti che è un po' come davvero come i supereroi quando si guardano le figurine no? ah ma questo allora con quello perché poi è un mondo comunque che si intreccia un mondo che si conosce le eccellenze poi emergono e fanno squadra fanno gruppo fanno insieme no? perciò questa è una cosa bella perciò i Kubrick quanto ha durato questa esperienza mi ha durato oddio sai oggi non lo so i tempi magari è durata sei mesi ma non so sembrava anche di più di meno non si sa il tempo è molto dilatato e perché sei sciuta perché poi non si litiga non si andava d'accordo no perché praticamente c'era Giacomo Spazio che è stato il fondatore della Vox Pop la prima etichetta indipendente italiana che ci aveva fatto aveva fatto questa compilation dei gruppi underground milanesi e lo studio dove eravamo andati a registrare avendo notato che avevo una bella voce mi aveva chiesto se io volevo fare magari anche dei lavori tipo pubblicità tenendo presente che io ai tempi per me la musica era tutta tranne che guadagnare cioè non ancora studiavo studiare una ragazza niente per questo ma alla fine siccome è andata subito bene ho cominciato a lavorare in studio perché poi col tantame uno due tre e ti pagavano quanto ti pagano ti ricordi guarda ti dico che c'erano le lire allora eh c'erano le lire sì devo dirti che il mio primo lavoro è stato la pubblicità della Bassetti nel senso che poi l'ho scritta anche io nel senso che c'erano ancora le gare di appalto c'erano ancora Armando Testa c'era la mi ricordo adesso non mi ricordo certo le agenzie pubblicitarie più famose le grosse agenzie esatto e la Petriolo e niente allora lui dovevano fare questo 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 jingle lo volevano in stile madonna siccome io suonavo le tastiere già avevo i film di computer avevo l'Atari ST 1040 quindi anche la fase di computer l'Atari e programmavo con il con il notator che poi è in Tato Logic e adesso e adesso sei multitasking sei un sacco di cose canta e basta sei fare un sacco di cose sono quasi imbarazzato quante cose io sono mono uso monodose non so ma dai ma lo stai che gli uomini non sono è ragionare anche questo forse è il limite mia strutturale e niente insomma per cui alla fine lui mi fa io non so perché non ho questa cultura lui è un jazzista gli faccio vabbè uno stile tipo madonna della sorta e ho tirato fuori questa cosa che poi era brio bassetti e tu l'hai fatto mio bassetti lo ho fatto io giuro e lui mi ha detto lui ha vinto la gara d'appalto e non so quanto ha preso lui però a me ha strappato una segna da 2 milioni e mezzo caspita allora come ci compravvi con 2 milioni e mezzo non lo so però io ho detto wow una macchina ci compravvi allora era comunque una macchinetta la compravvi sicuramente sì sì perciò hai cominciato lì di ben questo e poi quindi da lì ho un po' diciamo ho perso un po' il gruppo le cose ho cominciato a fare anche le cose un po' da me ho cominciato a collaborare con delle etichette perché a quei tempi c'era ancora tanto spazio per la musica c'erano ancora tanti budget c'era ancora tante c'era un modo di produrre tanto certo perché i dischi comunque venivano venduti facevano soldi i soldi portavano un sacco c'era uno che tira questo qua dice questo era proprio bravo a capire la musica a capire i tempi beh Pagani è molto bravo Pagani è bravo sì Mauro Pagani è molto bravo è uno che la sa lunghe sì sì che ha l'orecchio e poi sa per capire le tendenze che è fondamentale cioè incrociare il gusto del pubblico perché lo crei tu i cantanti famosi creano il gusto però devono anche interpretare un po' il periodo perciò lui è uno comunque un fuoriclasse sì sì però Pagani sì se no non avrebbe lavorato con lui eh no così l'uomo così tanto questo è vero perciò Clara comincia a fare le cose da sola comincia a imparare una nuova professione quella di cantante solista sì perciò sì di cantante diciamo di sessionist sessionist e intanto scrivo la parola sessionist cioè veniamo chiamata per fare le voci per fare una pubblicità per fare dei cori sui dischi per fare tante cose anche trasmissioni televisive gli stacchetti pubblicitari del non so ho fatto con l'orella Cuccarini non mi ricordo il programma la tipo di comincio dal 2 no non so uno con Buzzanka Cuccarini e Gambarotta non mi ricordo più il nome certo Bruno Gambarotta Bruno Gambarotta tante cose programmi famosi anche sì sì tu partecipai facevi jingle facevi la musica in studio preparavamo tutti i jingle erano produzioni come quella adesso siamo tutti più ridotti allora erano produzioni anche abbastanza corpose imponenti sì certo poi c'erano era c'erano di buoni budget anche lì per esempio per questa trasmissione ho conosciuto Luca Orioli che poi è stato poi un po' una chiave di volta Luca Orioli è quello che poi aveva diretto per tanti anni la band di Passaparola ti ricordi? la Passaparola Jerry Scott mi chiamano Sapientino perché io volevo sempre vincere a casa Luca Orioli vai vai ma io se fossi andato sarei stato imbranato ma a casa riuscivo con Passaparola perciò è lui comunque un'altra persona lavorando con lui in studio a questa trasmissione poi lui d'estate mi chiamò era tipo fine luglio quindi non trovava nessuno erano tutti in vacanza invece era ancora qui e mi diceva ma ci sei il 2 agosto? ho detto sì ma perché devo fare l'album sto facendo l'album di Alberto Fortis per resti a Bologna a fare le voci ho detto sì sì certo e lì ho conosciuto di mandare in vacanza ad agosto stare a casa è un'opportunità esatto a volte sì e quindi sono andata lì ho conosciuto lui e lì in studio quell'album era prodotto da Guido Elmi che è produttore di Vasco Rossi Vasco Rossi e lì che allora c'è stato il contatto sì perché poi dopo lui è diventato il mio produttore per i primi miei due dischi e poi dopo diciamo che mi ha siccome appunto sapevo bene come lavoravo in studio mi ha chiamato per fare gli spari sopra nel 92 perciò è il primo disco con cui ha collaborato con Vasco Rossi sì esatto perché lì era il periodo del glam rock quindi c'erano tutte queste grandi voci grandi cori tipo Aerosmith tipo Warren e tu avevi questa capacità io sapevo cioè sapevo come arrangiare le voci in quel senso e lì c'erano tante ballate ma anche l'arrangiamento perciò è tutto quel lavoro lì su tutte le parti quindi secondo me quell'album lì era pieno di ballad cioè vivere stupendo c'era bisogno di questa texture vocale e niente allora ho chiamato Silvio Pozzoli Nando Bonini e un altro perciò tu vedi a parte che l'ho andato con Alberto Fortis anche lì l'hai fatto che tipo era Alberto Fortis che tipo era che tipo è ma è un tipo molto schivo per cui sinceramente non umanamente non si era creato un feeling no umanamente no ma ci siamo riusciti dopo non in studio in studio non c'era ho capito c'è un studio dopo però non abbiamo anche questo non si creano sempre le stesse relazioni ovviamente no cioè si va a pelle si va sì certo a possibilità opportunità invece Vasco Rossi allora parliamo di Vasco Rossi nel senso ma non per lui ma mi interessa tu nel suo rapporto con lui la prima volta che l'hai visto che tipo ti è sembrato lo conoscevi già cioè era già famoso no io non lo conoscevo nel senso che chi sei ho sempre no nel senso sono sempre stata un esterofila quindi cioè io in Italia te ne fregavi gli italiani devo dirti che quando ero molto piccola mi era piaciuto vabbè no aspetta allora mi è sempre piaciuto Battisti di Battisti perché avevi anche il vicino di casa che suonava Battisti però poi dopo l'ho conosciuto dopo insomma mi era piaciuto molto Ben Nato Burattino senza fili e poi quando ero in Pestolina il mio primo LP che ho comprato quando era Burattino senza fili perciò vedi che avevo che all'opos a casa e poi mi piaceva molto Renato Zero è vero Renato Zero perché era molto estroso quindi quindi però di musica italiana oltre a quella cioè a parte quella appunto dei 7-8 anni ho letto che hai scoperto De Gregori pochissimo tempo fa assolutamente se fuori uno che ormai è ora di andare in pensola è proprio perché ero troppo piccola cioè quando lui faceva le cose ero troppo piccola dopo sei disinteressata è forse in quella fase di calo comunque che hanno gli artisti perciò sei giustificato perciò Vasco Rossi per te era una voce Vasco Rossi mi ricordo che faceva Vado al Massimo eccetera eccetera ma non mi non è che mi cioè non lo seguivo ce l'hai detto oh Vasco Rossi no no ma anche perché secondo me allora a quei tempi c'era proprio una milanesità e quel tipo di musica era molto legata alla emilianità ok perciò lo guardavi un po' con la busta sotto il naso no nel senso che era una realtà che non faceva parte della mia di realtà non lo so non guardavo Sanremo sono quelli dell'emilianità esatto ma io non guardavo Sanremo quindi non l'ho visto fare vita spericolata non l'ho visto fare niente per cui sapevo esattamente chi fosse ma non avevo mai seguito il suo repertorio musicale però incontrarlo è stata un'emozione comunque un personaggio molto timido effettivamente ti resta sempre questo perché poi noi vediamo i personaggi li guardiamo attraverso il televisore attraverso i giornali nei racconti però poi c'è una persona privata una persona che magari che pochi conoscono no? ma lui è uno molto ti cioè nel senso non so lui è uno uno è trino nel senso che proprio cioè è molto timido e dall'altra parte no ha un senso humorismo è un'ironia micidiale a me mi fa spaccare cioè dalle risate è caustico oppure c'è uno che fa delle funzioni sì 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 molto è una persona molto gradevole con cui stare interloquire e come è stata la collaborazione con lui cioè professionalmente com'è era uno esigente uno che però si fida dei suoi collaboratori è uno che è un rompiscatro un pignolo com'è? vabbè insomma ci sono vari periodi di vasco varie varie fasi sì varie fasi diciamo diciamo che negli ultimi anni è molto cambiato si è molto aperto è molto più sereno e magari quando lo ho costruito era un periodo un pelo più buio poi dopo ci si tratta la morte di massimo riva insomma queste cose qui però no è una persona molto sinceramente educata non abbiamo mai avuto nessuna riscontra perché sai a volte probabilmente Steve Jobs gli artisti Steve Jobs oppure altri che sono comunque poi trattano male le persone perché sono così sono esigenti invece vasco rossi non è in questa maniera ma lui lui tratta male alcune persone ha i suoi capi espiatori come la famiglia gli altri li lascia liberi li lascia tranquilli cioè musicisti la sua band la lascia stare poi magari ha i suoi i suoi parafulmini ma si sceglie lui insomma è molto educato è una persona sempre rispettata e sei andato in sintonia subito come suoni quello che ti chiedeva tu capivi quello che lui voleva anche questa storia di feeling come canterebbe Mina in questo caso ma si ma anche perché sinceramente sotto certi aspetti lo trovo anche molto simile a quello che chiederei io a un modicista che suona con me quindi il suo modo di chiedere le cose che a volte magari non è che sia chiarissimo però è una comunicazione proprio di pancia ti fa capire anche perché per lui è molto importante il testo ovviamente e quindi ti chiede magari delle cose non so per dirti mi viene in mente una cosa quando abbiamo fatto la compagnia lui mi ha chiesto cioè quando cantiamo questo inciso sbraga cioè non essere pulita cioè perché è la compagnia capito quindi cioè dobbiamo dare questo senso cioè lì capisci che lui ha una idea e perciò è comprensiva è comprensibile vuole che tutti trasmettono specialmente chi canta con lui insomma comunque che viene sentito non penso che insomma tutti possono cantare con Vasco lo dico immodestamente però beh sicuramente tu sì perché quanto è dura 20 anni quest'anno il ventunesimo anno aspetta è come un matrimonio è lunghissimo è una bella cosa no 22 non so dal vivo da 96 quindi 21 anni dal vivo e da 92 quindi mi piace ancora di più sono 25 fai il 25 25 facciamo le nozze le nozze non so cosa sia sono le nozze d'argento non so sono molto esperto anche io a casa ci corra girano poi ci scrivono cosa corrisponde il 25 ma è una benissima cosa che poi appunto questa capacità di andare anche d'accordo in tanti che appunto nel mondo che si divide come abbiamo detto prima dell'Europa però succede anche nelle relazioni personali siamo sempre più portati a dividerci e a non trovare le cose che uniscono invece di andare d'accordo per così tanto tempo al di là poi dei soldi si guadagna bene ovunque facendo il tuo mestiere la scelgare di più diciamo che come tutte le cose qua in Italia è andato calando purtroppo però vabbè io non permetto non lavoro solo con Vasco io faccio anche serate mie ho fatto i miei dischi poi abbiamo visto anche mentre tu parlavi nel nostro monitor poi sono andati in onda tutti i tuoi i tuoi singoli poi invitiamoci anche il sito comunque tuo dove si può scaricare anche oppure su Uyuu sì dopo vi nemo però la cosa più importante diciamo la mia maggiore fonte di reddito è la mia etichetta discografica che è la Delta Music Industry con cui facciamo musica dance techno trance eccetera eccetera io infatti ho letto Clara Moroni è passato dal punk al dance tutto tutto ha fatto tutto a me piace tutta la musica quindi e non hai pensato vedendoti così saresti un buon giudice di X Factor saresti perché comunque capisci di molto conosci la musica e lo so ma non sono abbastanza famose però sai l'hanno presi anche alcuni diciamo di quel mondo vostro nel senso di musica ricercata non del mio mondo che ascolto le canzonette perciò poi le hanno fatte diventare anche personaggi se sono Morgan se capita io beh Morgan aveva fatto di Monza tra l'altro di Monza Castoldi diciamo perciò questa brillanza età la Monza è piena di musicisti poi è una cosa anche strana la Monza è una città abbastanza diciamo seriosa così però poi ha queste punti chi c'è altro di musicisti? c'è Piero Cassano adesso non so se si è abitata ancora lì ma abitava in Favallotti però è da quella parte insomma poi Roberto Rossi che ha fatto addirittura dell'orchestra Sanremo ieri sera Max Longhi Gian Giovanni La Francia tantissimi altri è un bel polo musicale sì secondo me sì non so come mai adesso noi ti abbiamo proposto se andrai poi a X-Fact vediamo poi ce ne sono anche altri d'Italia io sponsorizzo poi vediamo dove va a finire io faccio per amicizia non ho problemi di Clara invece concludiamo con la Clara Moroni solista perché poi hai fatto dei dischi hai fatto anche anche se ho letto recentemente ho sentito anzi che eri un po' stanca nel senso eri un po' in una fase di riflessione tua bisogna avere alcune entrature per diventare una solista forse poi è la tua vocazione oppure magari puoi fare altro nella vita nel senso ti piace magari più scoprire talenti o più fare lavorare con le etichette ma a me nella musica piace fare tutto nel senso che qualsiasi cosa cioè da arrangiare da scrivere da seguire da qualsiasi cosa e per quello che riguarda la meccanella solista penso di purtroppo non avere un gusto molto italiano per cui magari italianizzo delle cose che però hanno un sound magari e quindi mi risulta un po' difficile io ho fatto nel 2005 un disco in inglese e ai tempi le discografiche mi dissero no canto in inglese siamo in Italia poi ho avuto fuori Lisa quindi vabbè c'è qualcosa che non tornava ti hanno fregato da qualche parte no nel senso che dipende la musica e poi il successo è un mix di talento e fortuna occasioni e tante cose insomma non basta avere talento o avere fortuna bisogna avere talento fortuna e anche sapersi un po' gestire quindi adesso sto lavorando sì sì sto lavorando sto preparando sto preparando la seconda parte del mio EP che era uscito due anni fa allora è una notizia sto ricominciando a lavorare sì quando sarà pronto ah non so ah però ti dai dei tempi oppure no un anno tre mesi no no quando sarà pronto lo vedremo quando sarà pronto ma per chi volesse comunque invece scaricare le tue canzoni dove le trova allora le trova su iTunes perciò Clara Moroni e ai tempi il primo musico che ho fatto McLaren The Black Cars sempre sempre su iTunes e il mio sito è claramoroni.com e la mia pagina Facebook è Clara Moroni Personal perché ce ne sono anche altre magari ti sono i fan no nel senso che cioè siccome Facebook non ho capito perché ma sui profili puoi arrivare solamente a 5.000 amici perché poi dopo ti fa diventare una pagina allora ti ha fatto diventare tu sei personal la tua pagina io ho cercato di mettere personal per far capire alla gente che e comunque io trattavo la mia pagina Facebook come un diario come un profilo non ci sono riuscita non ci sono riuscita no questa nostra porzione e c'entra anche Bergamo perché Moroni Moroni sono bergamaschi infatti mi volevo dire come mai perché l'origine di Moroni è proprio un economico in Bergamasco non lo so però secondo me c'era qualche un appunto invece sempre non lo so qualcosa di Bergamo c'è dappertutto ricorda i Mori sono scesi dalle valli può darsi può darsi può darsi all'inizio a Masco mi chiamava all'inizio la libanese la libanese perché ora faccio un po' la libanese dopo la Ferrari questa sei diventata famosa come la Ferrari però prima la libanese questo lo sappiamo solo noi esatto grazie Clara davvero ti auguro davvero tutte le fortune per la prossima anche per la prossima ma anche perché te lo meriti sono una persona davvero squisita ringrazio so che sarà uscito anche questo dai teleschermi questo lo avremo trasmesso grazie mille Clara Moroni grazie mille noi ci vediamo una prossima puntata di incontri